Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel Comune di Pieve-Santo Stefano, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Valsavignone. A Firenze in Piazza delle Cure per lavori, fino a fine febbraio restringimento di carreggiata tra Viale Volta e Viale dei Mille. I treni, ricordiamo che oggi è in vigore uno sciopero del personale fino alle 21. Non interessa frecce e treni a lunga percorrenza, previste cancellazioni e variazioni per i treni regionali. Buon sito Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!